Hola io sono Marco Scron e signori e signori c'è un problema da Tech&Beacraft 4 Guardate Adesso funziona Ma prima era tutto impallato Cos'è successo? Mi sono teletrasportato nel mio mondo, quello nuovo E mi ha ucciso istantaneamente, quando indossassi l'armatura E mi ha detto Collapsed World Qualcosa del genere, così Fortunatamente Grazie ai cosi, come si chiamano, Deep Storage Unit Ho preso dei materiali, mi sono ricraftato Un hammer Un crescent hammer E adesso mi crafto un piccone Ho preso col crescent dei tesseract E li ho Ho preso quelli dei Dei boiler E quelli dei generatori, eccoli qua E li ho rimandati a questo Praticamente era tutto senza energia, non so perché Tutto senza energia Adesso il mondo c'è di nuovo, dovrebbe andare Cioè il mondo ha di nuovo l'energia Dovrebbe andare Accidenti Che cazzo di scagazzo che mi è preso Ed effettivamente, ecco qui la mia tombola Ed effettivamente è morto È tutto esploso Chissà perché Chissà com'è È tutto andato E questa cosa è terribile, signori Dobbiamo assolutamente scoprire che cosa Intanto non c'avevo questo e sto un fesso Però vabbè Che cosa è successo a questo mondo Quale grave danno Andiamo a dare un'occhiata Allora Sono un cretino Ho lasciato staccato questi Però sarebbe dovuto intervenire questo Il mio metodo rivisto Probabilmente sono finite le nether star Giusto Quindi Ziori e ziori Andiamo a riattivare Il tutte cose Spero di averli qui Accidenti Mettiamocelo prima di fare una brutta figuraccia E se non ce li ho qui Speriamo che l'upload ancora funzioni L'upload non funziona L'upload non funziona Facciamo così Patapim Patapim Patapem E patapem Sta entrando un po' di input Yes Perfetto 254 Adesso mi si dovrebbe riattivare l'upload Perfetto Andiamo a vedere le nether star Ci stanno le nether star Perché non gli da l'impulso 3 Glielo da E infatti adesso sta funzionando E qui sono morto E adesso guardate 400 di in Perché? Perché sta funzionando Guardate come muoio Guardate come muoio Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Wow Ragazzi Wow Wow Ce l'abbiamo fatta Allora Quelli lì li ho scomposti Nella crafting table E ho usato quel metodo Praticamente Ad ogni tick di redstone Lui ci butta dentro Una sola nether star Ok 360 Che figata Ah qui ho fatto entrare Simone Ed è evidentemente morto Qui È morto forse perché È collassato il mondo C'è la sua roba Bah Che strange Che cose strane Che accadono On minecraft Comunque l'abbiamo ripreso L'abbiamo ripreso Il nostro mondo Sta ricicciottandosi Io devo però Assolutamente Fare qualcosa Devo fare qualcosa Perché Non posso permettermi Che questo mondo Collassi Anche col k Non andrebbe bene Però collassi davvero no Remove Quindi come possiamo fare Dobbiamo dargli una fonte Eterna Di potenza Al nostro ciccio Esclusa questa Allora qui intanto Sta entrando Vediamo se stanno funzionando I cicci puzzi Si stanno funzionando Avevo fatto questo sistema Che era carinissimo Però vedo che Non mi si è schioppato De pezzo Entriamo di qua Non lo fa Come mais Oh Così sta funzionando Vedete Vado a 48 fps E qui 57 Già sta scendendo Già 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 gli rompi il cazzo Mamma mia che palle Allora Fermi tutti Qui dobbiamo fare Una puntata un po' Un po' Un po' seria Perché questa è la batteria Che dà corrente A tutto quanto Io per errore L'ho staccato Quindi non risuccederà Questo Anzi sapete Ve dico Quasi quasi Io le metterei sopra È un po' brutto Infatti Tutto Tutto sto armamentario Qua sopra Però 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 no La voglio far crescere Ancora di più La devo vedere meglio Tiè La voglio almeno Qui Altri Quattro blocchini Verso l'alto Quindi 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 La soluzione più semplice Sarebbe prendere Un solar panel Ultimate Vediamo che Che c'ha Ne ha Unable 4000 Di queste c'ha Tutto unable To craft Va bene To craft Va bene To craft 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 C'abbiamo il super mega processore Crafta Vai Kiko Tiè Gli ho fatto fare Già dei pannelli solari Dei pannelli di vetro E grazie al mondo Quello Di iron C'ha un sacco di nuggets Quindi Non ce ne stiamo preoccupando Lui adesso sta craftando Direttamente I pannellozzi solari Quelli base Di cui Che ne servono soltanto 32.670 Soltanto Quindi facciamo un pannello solare in più Intanto però Ci prendiamo questo Vieni qua E dobbiamo 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 Prendere una buona batteria Ma non eccezionale Intanto butto altre cosine qua dentro L'arco Ci potrebbe interessare Questo ci potrebbe interessare Il teletrasporto ci interessa molto Ok Allora Questo qui me lo prendo I Altri cavetti A questo punto io prenderei Tutte le resonant che abbiamo Resonant Eccole qui Caspita se ce ne sono tante Che comunque hanno un buon Transfer di energia E andiamo nel nostro Mondo A verificare che tutto Sia Per il meglio Non questo mondo Ma quell'altro Brutto babbeoide Perché? Perché adesso Ho cambiato qualche cosa La qui Qui devo chiudere Tra l'altro Cazzo sono finite Le other star? Sono finite Le other star Porca Ma Ma che cazzo Vabbè Le sta fanno Ma come hanno fatto a finire? Ce ne erano 200 mila Miliardi di milioni Beh Allora Questo sta andando Da qualche giorno E sta a 36 secchielli Inmazza Buonanotte Mo la mettiamo a casaccio Poi ci Ci preoccuperemo di Queste qui Trasferisco Porca puttana Che schioppo Ah io? Perché mi hai fatto male? Che figata Comunque Che su richiesta Mi muoiono i cosi Guider È fighissimissimo Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua sopra Allora Io voglio che Una di queste Carichi In sequenza Tutte le altre Però ho notato Che c'era un problema Qui Rompiamo questa Qual è il tuo problema Mia cara amica? Ok Adesso ci siamo Perfetto Adesso ci siamo Dovrebbe funzionare Per fare una prova Ah ma c'è un altro Questa è una batteria Da 8 16 24 32 40 48 Pronto? Perché no Non posso cliccare Ma è un frame Questo Che babbeo È un frame Aspettate che Faccio Resonant E gliela faccio fare Dovrebbe farla subito Beh Amore mio Ah sta schedulando L'electrum Mi scordo sempre di farlo Porca paletta Azzuzza Sta facendo questo Quindi non me lo fa Vabbè sti cazzi Sti cazzi Come faccio a far A capire Se va tutto bene Mi serve un macchinario Che consuma un cifro Un macchinario Che consuma un cifro Un macchinario Che consuma Intanto voglio andare a vedere I wither school Ci siamo Perfetto Prendiamo un alloi Forneist Ne ho un po' Prendiamo della goblestone Mettiamola qui Si sta cishottando Io le faccio fare La stone Dovrei vedere Se tutto va bene Calare soltanto questo Perfetto E qui rimane Rimane tutto saturo Se metto il pannello solare qui Questo qui Non dovrebbe più calare Perfetto Ok funziona Good Di qua Io volevo mettere Un bel tesseract Dove sta Dove sta Dove sta Eccolo qui E lo chiamiamo Ausiliario Ok Gli diciamo Invia Andiamo sotto E di qua Al Generatore di mondi Non ce ne mettiamo uno soltanto Cioè Adesso questa qui è Energy out Ok Ci mettiamo anche un altro Tesseract Andiamo un attimo A prendere Qui Qua e qua Perfetto Sta cazzo De mod Se non gli dai Quello che vuole Ti rompe il culo Ti rompe il culo Eppure giusto Che sia così Però Caspiterina Ti ammazza Ti distrugge Prendiamo un altro Tesseract Ne mettiamo Uno qui Con Ausiliaria In Ricezione E quest'altro Comunque In Energy out Quindi abbiamo L'energia Di Il nostro sistema base Ok Più Come Evenienza L'ausiliaria Che Comunque Anche nel caso In cui si saurisca male Io ci metto questo Intanto Dovrebbe Dovrebbe Tener botta Per un bel po' Perché Questo Produce 32.000 RF Cazzo Succede Ah E già Allora Stavo vedendo A parte Il rumore Incredibile Che fa Sto coso Dovrei Silenziarlo Ah Buono Stavo vedendo Che sono Finiti Cioè Che l'autocrafting Ha finito I guider Cioè Ha finito Di Richiamarli Quindi Andiamo un attimo A verificare Che cosa Sta succedendo Qui stiamo Ancora facendo Nuggets Molto bene Qui si è piantato Vuol dire Che ce ne ha Di più di 16 Se ce ne ha Più di 16 Nether 17 Infatti Vuol dire Che il nostro Sistema Non li sta Richiamando Allora Innanzitutto Adesso Più di Meno di 16 Non mi bastano Voglio Averne sempre 100 E quindi Adesso Rifunziona Gli potrei dare Anche Un Com'era Un 8 secondi Non mi ricordo Andiamo a vedere Ok Quello scende Va bene Va bene Va abbastanza bene Ok Ok Quindi qui Ci saranno 100 100 Netherstar Adesso Ci telepipottiamo Ah però Prima Cambiamo Questo E lo facciamo Ritornare Ad essere Porca La paletta Energy Out Pronto Perfetto Anche Questi Energy Out E anche Questi Che erano Quelli Che mi hanno Dato L'energia Iniziale Ok Sono molto molto felice Del risultato Mi sono cagato sotto Regà Pensavo E' perso tutto Telepipottiamoci E andiamo a vedere Perché la batteria Non lo sta più richiedendo C'è sempre Un in Di 460 Quello ancora Funziona Cazzo Ne ha messe Troppe Devo fare Qualche secondo Di più Ma la smetti Ma la smetti di farmi male Eh? La smetti La smetti Bastardo di merda Quindi adesso L'energia del boiler Dei generatori e del reattore Sta comunque andando Sta scemando Perché non vede più quelli dei solar panel Perché sta piovendo Purtroppo la pioggia è una cosa che mi è sfuggita Mi è sfuggita davvero 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 tanto non l'ho messo nel dimlet e ho paura che se modifico il dimlet poi dobbiamo o rifare tutto o perdiamo tutto quello che abbiamo quindi per ora ci teniamo il mondo con la pioggia tanto la pioggia non dura così tanto da cambiarla, io ho fatto anche un draconic un weather control ma non funziona in questo mondo guardate turn off rain no thunderstorm no 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 non lo voglio, off questo non ho capito perché non funziona così andiamo a prendere un button guardate off questo qui dovrebbe far finire la pioggia ok? è un macchinario della della draconic macchinario, sempre roba magica però la pioggia non non smette quindi non si può utilizzare in questo senso ed è un grosso 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 problema sono un po' scazzato da questa cosa ragazzi boh, se avete suggerimenti fatemelo sapere altrimenti mi attacca il cazzo e tiro forte perché quando modifico un un dimlet mi genera un altro id un altro mondo quindi me lo farà sì con quelle caratteristiche però mi attacca il cazzo e tiro forte una cosa che non capisco è perché non mi chiamava quei sedici quelle sedicine del star e me li sta riempendo 39 ancora sono più lenti facciamo una cosa questo me lo prendo via 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 comunque malgrado la pioggia e malgrado le morti non mi succedeva da tanto di morire nella Tekken Bigraft abbiamo salvato il nostro mondo cioè sono morto quindi questa puntata un po' strana finisce qua e noi ci vediamo nella prossima puntata dove andiamo a spaccarci la Twilight Forest bella raga grazie a tutti